La definisco cultura umanista, ma è riduttivo. Nella buona scuola chiediamo di studiare di più alcune materie, per esempio la storia dell'arte, per esempio la musica, per esempio le lingue, tutti noi sappiamo che ce n'è bisogno. Chiediamo a scuola italiana di fare ciò che la scuola italiana ha il dovere di realizzare. Vale a dire finalmente un investimento più forte rispetto al passato, non soltanto sugli skills professionali, sui curricula, ma anche sull'esigenza più grande che ha un istituto scolastico, che non è quella di formare soltanto un lavoratore, è innanzitutto quella di educare un cittadino. Naturalmente su questo si può discutere. Io sono uno di quelli che pensa che ci vorrebbero più ore di latino nella scuola italiana. Nel progetto che abbiamo messo in campo, l'idea di tornare a investire su alcune materie che erano state messe in secondo piano, non è però in contraddizione con tutto l'aspetto più scientifico, più legato alla tecnologia. Qualche giorno fa ho incontrato Fabiola Giannotti, che è la direttrice del CERN, o meglio, che è stata nominata direttrice del CERN la principale, una delle più prestigiose istituzioni di ricerca a livello mondiale, e che diventerà tale dal primo gennaio del 2016, e mi ha raccontato con entusiasmo del suo passato nel liceo classico, lei che oggi è una delle scienziate più importanti al mondo. Perché? Perché la scuola italiana fa anche questo. Però c'è bisogno di restituire respiro, ossigeno. E questo è il secondo dei cinque punti della buona scuola che voglio toccare. Grazie a tutti.